Se c'è carenza di risorse, come sicuramente c'è carenza di risorse, io credo che sia più giusto, lo dico dal centro-destra, tagliare le risorse, tagliare l'utilizzo di risorse finanziarie sulle missioni militari che non tagliarle sulla cooperazione e lo sviluppo. Perché le missioni militari agiscono semmai sugli effetti di squilibrio di situazioni, la cooperazione e lo sviluppo agisce sulle cause, quindi è preferibile che l'Italia si impegni di più nella cooperazione e lo sviluppo e magari riduca qualcosa delle proprie missioni militari all'estero perché in questa maniera, soltanto in questo modo, noi acquisiamo quella... Non so se un collega alla russa sarebbe d'accordo, ma... Secondo me non è tanto disaccordo, considerato anche quello che rappresenta anche per la difesa di queste missioni. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS